buongiorno sono maddalena giacopuzzi pianista italiana e sono davvero felice di fare parte di questo progetto della casa editrice pvm intitolato musica dalla terra di chopin insieme ad altri pianisti di diverse nazionalità vi presenteremo dei video in cui vi parleremo delle opere formative dei grandi compositori polacchi da chopin a compositori più sconosciuti per me è stato un grande piacere scoprire questo repertorio così affascinante e non vedo l'ora di condividerlo con voi